Noi abbiamo il dovere di tradurre un diffuso sentimento di rabbia e anche di dolore in un progetto politico di alternativa. Il minimo indispensabile è che le forze di centrosinistra convergano in un cammino, in un percorso unitario. Nel Partito Democratico c'è chi più che vendola sta aspettando magari Casini, che tra l'altro è lusingato anche dal centrodestra. Il tempo è poco, se si va ad elezioni l'anno prossimo cosa aspettate? Ma il problema non è né vendola né Casini, il problema è se un progetto di alternativa è in grado di connettersi per esempio con la lotta dei precari nell'università, è in grado di capovolgere il disegno della Gelmini di devastazione della pubblica istruzione, è in grado di dire che non si può smontare la civiltà del lavoro e distruggere lo statuto dei diritti dei lavoratori. A me interessa questo contenuto da mettere dentro a quel cantiere. Quando ci sarà un tavolo sul quale ci sarà questo contenuto, vi sedete, Bersani cosa aspetta? Vorrei dire ai partiti del centrosinistra quello che dice Shakespeare, ci sono molte più cose tra cielo e terra di quante non ce ne siano nelle filosofie dei partiti di centrosinistra. Noi siamo necessari, ma non esauriamo la vasta platea di coloro che si oppongono a Berlusconi. E quindi io penso che il problema non è vendola e Casini, il problema è un progetto di trasformazione radicale del nostro paese o è un disegno di galleggiamento dentro al palazzo. L'hanno capito tutti a sinistra? Io penso che il popolo nella sua infinita saggezza lo ha capito.